una volta che ho fatto le modifiche che volevo fare sulle sulla mia immagine o sulla mia serie di immagini all'interno di camera raw ho due opzioni io posso infatti beh in realtà ho più opzioni nel senso che potrei annullare e chiudere tutto quello che ho fatto però potrei selezionare apri immagine in questo modo aprirei l'immagine che ho selezionato all'interno di photoshop per ulteriori modifiche questo è comodo perché mi evita il passaggio di dover salvare un jpeg me lo apre direttamente in photoshop e quindi ho potenzialmente un pochino di caduta qualitativa in meno una cosa infinitesimale e posso andare a modificare direttamente la mia immagine e poi salvarla come psd o come jpeg a seconda dei casi la seconda opzione che ho che è quella in realtà che mi interessa di più in questo momento è salva immagine io posso selezionare un'immagine e salvarla dove voglio oppure selezionarle anche tutte e fare quindi salva immagini salvo come in questo caso jpeg salvo sulla scrivania qui ho il percorso che posso scegliere qui ho delle impostazioni per nominare il documento in questo caso io lascio il nome del documento così mi rimane lo stesso nome estensione del file potrei salvarlo come psd come tif come dng ma io in questo caso lo salvo semplicemente come jpeg i metadati li lascio la qualità metto la massima non sto limitando la dimensione del file perché altrimenti avrei una compressione che non voglio le informazioni sulla posizione non ci sono neanche perché questa camera non credo avesse il gps attivo comunque non le metto spazio colore adobe rgb ma potrei selezionare srgb se fosse per solo per il web per esempio 8 bit queste opzioni non le uso perché lascio la risoluzione a 300 ma non ridimensiono la nitidezza la lascio così com'è a questo punto io vado a salvare cioè fondamentalmente lascio tutto così com'è l'unica cosa che ho selezionato è jpeg dal pannello del formato vado a salvare e in questo modo mi crea nella location che gli ho dato i jpeg di tutte le immagini che avevo selezionato con eventualmente le modifiche che gli avevo preventivamente dato questa procedura fa sì che all'interno della cartella dove sono salvati i file camera raw 2 o i dng o in f se usate nikon all'interno della cartella in cui sono salvati i file digitali originali vengono creati dei file di testo con estensione xm ecco una doverosa aggiunta perché io le cose non me le ricordo ma me le ricordo nel senso che era xm qualcosa era xmp non sono un programmatore per cui queste robe non le tengo sempre bene a memoria in ogni caso viene creato vedete qui di fianco a tutti i file camera raw 2 viene creato un file con lo stesso nome con estensione xmp questo file contiene le modifiche che io sono andato a fare quindi tutte tutte le piccole tutti i piccoli aggiustamenti che io ho fatto vengono riportati in questo file di codice in questo modo le modifiche sono salvate grazie a tutti